Venendo al tema delle firme dei 5 Stelle, è ovvio che fermo restando le indagini della magistratura, quindi ovviamente sarà la magistratura e non è il mio costume colpevolizzare le persone prima di un atto della magistratura, come invece ho visto fare da molti esponenti del Movimento 5 Stelle in seno alla Camera dei Deputati, dove io sono, quindi ben prima che si esprimessero gli organi competenti avevano già dichiarato chi era colpevole e chi era no in molti dei loro interventi, ma non lo farò io perché sono un po' diversa da loro. Detto questo è indubbio che la questione delle firme, e questa cosa che sembra tra l'altro essere anche più ampia, che vada anche oltre Palermo, fa venire meno la tanto sbandierata moralità, intransigenza, onestà, chiamiamola come vi pare, che i 5 Stelle fino ad oggi hanno voluto presentare come loro bandiera di distinzione etica e morale rispetto a tutti gli altri che fanno politica. Credo che oggettivamente oggi non possono poterlo. Sì, perché io devo andare in...